L'attività industriale possibile in Italia che ha a che fare con le aree è la realizzazione del deposito e del parco tecnologico. Sono due progetti connessi e legati che hanno già peraltro i finanziamenti necessari, c'è l'aspetto normativo da definire, quindi queste sono attività industriali reali, concrete e a breve termine. Per il futuro speriamo che l'opzione tecnologica nucleare possa essere riconsiderata nell'ambito di un mix produttivo tenuto conto della praticamente nulla emissione di gas da petto serra, tenuto conto della stabilità del costo di produzione e tenuto conto anche delle caratteristiche della continuità della sicurezza di approvvigionamento che può conoscere questa emissione.